Sì, in questo caso Commissione Cultura. Io intanto ringrazio Antonio Palmieri e attraverso di lui tutti gli organizzatori perché mettere insieme tutte le forze politiche di questo Parlamento, radunarle attorno al tavolo con gli operatori, quindi in un confronto aperto, anche schietto e sincero, e chiamarci anche il Governo a prendersi un impegno e poi magari l'impegno che si è preso il Sottosegretario lo ribadiremo in chiusura perché mi sembra un impegno significativo, va sicuro che non è semplice, quindi il lavoro che ha fatto Antonio è molto molto importante e il fatto che ci sia qui con noi anche un rappresentante del Consiglio di Amministrazione della RAI lo è altrettanto. La nostra Commissione si occupa di molte cose, ma sostanzialmente divide il suo lavoro tra due cose, l'education, cioè l'istruzione, e la cultura, i beni culturali, la valorizzazione dei beni culturali. Niente come l'animazione è sintesi rispetto a quello che noi facciamo, perché da un lato naturalmente c'è, lo diceva prima Paolo, ma lo diceva anche Luca, il tema della pedagogia legata ai cartoon, a tutto il mondo dell'animazione, dall'altra però c'è anche il mercato e il soft power, quindi io vorrei parlare di queste due cose. Comincio dall'education, perché è vero che stiamo approvando in queste ore un disegno di legge che riguarda la RAI, diciamo così, e che c'è un pezzo di delega che può interessarvi e ci interessa proprio perché riguarda l'aspetto pedagogico del mondo RAI, cioè RAI Education fin qui è sempre stata vista come l'ultima ruota del carro e anche l'animazione legata al mondo RAI è sempre stata vista come un prodotto di secondo livello, cioè prima i prodotti per adulti e poi tutto quello che riguarda invece la pedagogia. L'idea di servizio pubblico che noi abbiamo in mente invece ribalta la questione, cioè il servizio pubblico è anche quello che si fa carico di un aspetto della crescita e della formazione dei nostri bambini e ragazzi che evidentemente passa da lì. Noi siamo un po' la generazione che è cresciuta con i cartoni animati, adesso siamo adulti e forse si può fare anche un consuntivo di com'è andata, bene, male, insomma quanto anche la tanta troppa pubblicità che c'è in mezzo al mondo dei cartoni ha influito sulla nostra crescita e quindi quanto importante sia invertire in questo senso il percorso, dire per esempio con forza che nella tv destinata ai ragazzi la pubblicità non ci deve essere, perché se quello è un prodotto che serve alla crescita in qualche modo vuole avere un tenore pedagogico, allora è giusto che la pubblicità sia spostata su altro. Questo è un qualche cosa che pesa, che costa, diciamo pure che costa, però è un'idea di servizio pubblico differente, quindi io credo che quando si fanno proposte di questo tipo dobbiamo impegnarci come Parlamento e ovviamente come organi di amministrazione di un'azienda che poi ha il proprio ruolo sul mercato e quindi in qualche modo deve essere sostenibile quello che fa, però se parliamo di servizio pubblico in qualche cosa ci dovremo pure contraddistinguere dal resto del mercato audio televisivo e quindi questo può essere un punto molto molto importante. La scuola è uno degli attori che naturalmente possono essere coinvolti direttamente. Io credo che una collaborazione tra il mondo audio televisivo e il Ministero dell'Istruzione in questo sia molto importante. Ci sono stati alcuni progetti, però sempre progetti spot, cioè alcuni progetti indirizzati alla messa in onda di un determinato prodotto d'animazione in un determinato periodo, ma mai una strategia complessiva in cui la RAI diventa un canale forte dell'idea di educazione che abbiamo in questo Paese, cioè si dà all'animazione il valore vero che ha, secondo noi, appunto nell'orizzonte pedagogico. Si smette di pensare che quello sia il momento che c'è tra quando si torna a scuola e quando si riprende a fare i compiti. Per noi era così, guardare i cartoni animati era il momento di pausa che avevi tra la scuola e rimetterti sotto a studiare. Io tra l'altro ho conservato una passione personale per i prodotti di animazione. Ho 28 anni e spero che questo non desti particolare preoccupazione a chi mi vede leggere fumetti o guardare cartoni animati. Insomma, sono molto legata a quei prodotti anche perché hanno fatto parte ovviamente del mio percorso di crescita. credo però che da quello che hanno dato a noi c'è molto da imparare rispetto a quello che va cambiato e appunto per me il tema pubblicità è centrale perché se voi provate a guardare un cartone animato oggi, soprattutto appunto in quella fascia che è la fascia più sensibile per i ragazzi, voi troverete enormi quantità di pubblicità, enormi e soprattutto di pubblicità insomma anche molto pushing sui consumi, cioè diciamo promotrice di una cultura che è tutt'altro che indirizzata a una pedagogia positiva, diciamo così. E quindi in questo forse come servizio pubblico dobbiamo fare uno sforzo, noi come Parlamento ci mettiamo a disposizione e naturalmente insomma poi alcune scelte spetteranno all'azienda oltre che al governo. questo è il primo tema, cioè education e quindi nobilitare il ruolo dell'animazione in questo. Io credo che tutta l'animazione possa svolgere questo ruolo, però non solo questo, perché è giusto dire che l'animazione non è un prodotto per bambini, non solo perché noi magari ne siamo fruitori, ma perché sono opere d'arte, i cartoni animati, io comunque sentivo prima citare quelli che adesso fanno miliardi di incassi in giro per il mondo, io sono stata qualche giorno fa a vedere Inside Out, devo dire che non ha niente del prodotto per bambini, io ho studiato psicologia, ho studiato filosofia e quel prodotto là parla anche a chi ha, diciamo, fatto quel tipo di studi, dice qualcosa persino a chi ha un bagaglio culturale alle spalle di quel genere e così tutto il mondo dell'animazione richiama bagagli culturali importanti e soprattutto è portatore di quel soft power che è uno dei canali di sviluppo del nostro paese. C'è una classifica, mi pare, del 2012 che dice che l'Italia è al quattordicesimo posto nel mondo per soft power. Se noi andiamo a vedere la potenzialità dell'Italia, quella classifica la possiamo scalare facilmente, siamo sotto l'Australia, forse si può fare un po' di più e utilizzare anche l'animazione con tutto il potenziale di immaginazione, di creatività che c'è in questo paese è sicuramente una leva importante. Allora non voglio chiamarlo Wings Act, però sostanzialmente quest'idea del sottosegretario di mettere attorno a un tavolo il governo, le forze politiche tutte, perché la disponibilità c'è stata, gli operatori e magari il nostro servizio pubblico è un primo passo in questa direzione che va nei due sensi, education e soft power. Cioè cominciamo a sì valutare il ricavo potenziale che c'è da questo settore e insieme chiediamo agli operatori del settore di darci una mano nello sforzo pedagogico che stiamo facendo. Mi pare che dalla discussione di oggi, io mi sono assentata per un voto, ma insomma il resto ho cercato di captare quello che è venuto fuori, le carte sul tavolo ci siano tutte per fare un ottimo lavoro, per cui i prossimi mesi sono quelli in cui dobbiamo un po' stringere per passare dal convegno alla realtà, che insomma è quello che cerchiamo di fare attraverso il nostro sforzo di governo del Paese. Quindi di nuovo grazie a tutti e direi buon lavoro a questo punto. Bene, io ringrazio tutti, assicuro che il moderatore si è moderato molto, anzi non ha parlato per niente, avevo alcune cose da dire, non le ho dette, non potrò rile, ma anche gli altri, avrei voluto anche fare per esempio un secondo giro con bozzetto eccetera, ma dobbiamo lasciare la sala, altrimenti non avremmo parlato tutti e quindi sono riuscito a far parlare tutti, mi sono accorto. Quindi ringrazio tutti, speriamo che questo Wingsat, se piano piano cresca e stiamo davanti, è soluto che il convegno abbia un seguito perché ovviamente non è che con tutto quello che è seminato spero che qualche pianta insomma riesca a fare dei frutti. Grazie.